Un'edizione che è la conferma della sedicesima edizione, dove finalmente il pizzaiolo rimane ed è al centro del dibattito, diventa colui che porta avanti l'arte, colui che diventa quello che seleziona i prodotti, quello che sceglie le tecniche, quello che racconta gli ingredienti, quello che impara a comunicare e perché non a cantare, è importante. La campionata è un modo per confrontarsi, è un modo per imparare, raccontare le ricette e confrontarsi con i colleghi su quello che si fa dierso. Quindi diventa un po' un gioco nel quale tutti si confrontano, ma il centro per noi importante rimane Napoli, l'ingrediente Farina, il Molino Caputo, insomma è questa fantastica città e Cornice che ci abbraccia. Quindi penso che stiamo raggiungendo un buon risultato e soprattutto grande partecipazione dell'Asia, che stanno studiando con molta attenzione le nostre tecniche e quindi replicare, alzare molto la qualità, poi gli ingredienti di piano piano cammineranno in seguito.